Amici del vaso di Pandora, benvenuti. Da due anni ormai si fa un gran parlare delle dimissioni di Bergoglio, dimissioni che però non arrivano mai. Bergoglio che in queste ultime settimane sta intervenendo spesso e volentieri tra l'altro in faccende di politica internazionale e parliamo ovviamente del conflitto russo-ucraino. Sono due degli spunti che affronteremo assieme al nostro ospite di oggi, do il benvenuto al giornalista scrittore storico dell'arte Andrea Cionci. Buonasera Carlo, un saluto a tutti gli ascoltatori del vaso di Pandora. Allora, lo vediamo in foto, non l'avremo live in video per un motivo ben preciso, perché il tema che sta trattando in questi anni qui è estremamente spinoso, ricco di controversie. È stato diciamo additato, accusato Andrea Cionci di cercare visibilità e allora lui per mettere a tacere queste critiche non è presente in video ma solo in foto. Questa è una sua scelta fatta già da parecchio tempo che sta portando avanti con grande coerenza. Autore, vediamo qui in sovraimpressione del libro Codice Ratzinger, edito da Bioblu Edizioni. Andrea, senti, come dicevo nell'introduzione, si parla da un po' di tempo delle dimissioni di Bergoglio, ma Bergoglio le dimissioni non le sta dando e non le dà. Recentemente, tra l'altro, Bergoglio ha dichiarato che se dovesse dimettersi non sarà Papa Emerito, ma Vescovo Emerito di Roma. Ci spieghi cosa sta avvenendo? Sì, dunque, questo teatrino delle dimissioni se ne è sempre parlato, bisogna dire, però negli ultimi due anni anni si è intensificato particolarmente. Perché? Perché negli ultimi due anni io ho condotto un'indagine sul blog di Libero Quotidiano, su Bioblu e su Roma It, un'indagine, un'inchiesta che consta di oltre 230 articoli, che sono stati scritti gratis et amore dei proprio per avere la massima libertà di scrittura possibile, che hanno individuato un fatto assolutamente di importanza millenaria, cioè che quella declaratio, quella dichiarazione letta in latino da Papa Benedetto l'11 febbraio 2013, non è mai stata un'abdicazione, una rinuncia al papato, ma un semplice annuncio con cui lui si ritirava in sede impedita. Che cos'è? è uno status giuridico che si ritrova nel canone 412, in cui il vescovo o il Papa in questo caso è formalmente prigioniero, confinato, sotto minaccia, non libero di esprimersi neanche per lettera. Questo perché? Perché il cardinale Ratzinger già nel 1983 aveva importato dal diritto dinastico tedesco il cosiddetto Fürstenrecht, una questione che è stata confermata da uno dei più autorevoli studiosi di diritto dinastico a livello internazionale, cioè il dottor Andrea Borella, editore dell'Annuario della Nobiltà Italiana. Questo era un sistema giuridico anti-usurpazione che prese piede nell'Europa centrale nel 600, dopo l'usurpazione del trono inglese da parte di Elisabetta I. Così i principi tedeschi, preoccupatissimi anche dalle guerre di religione che divampavano ovunque in Europa in quel periodo, crearono questa distinzione tra il titolo dinastico e il conseguente esercizio del potere, in modo che solo chi avesse un diritto genealogico, nobiliare, dinastico, potesse conseguentemente esercitare il potere. Questa distinzione nel diritto canonico romano ha preso il nome di munus petrino, cioè il titolo di Papa, l'investitura di Papa che viene data direttamente da Dio in ottica di fede, e il ministerium, cioè il conseguente esercizio del potere. Quindi che cosa succede? Il canone 332 al paragrafo 2, che regola l'abdicazione del Papa, dice che il Papa per abdicare deve rinunciare al munus petrino, cioè al titolo di Papa. Quindi rinunciando al munus titolo di Papa decade tutto il resto e decade anche il ministerium. Ma se il Papa di fatto rinuncia solo al ministerium, solo all'esercizio pratico del potere e non al titolo, vuol dire che si trova formalmente prigioniero in sede impedita. Ecco perché Papa Benedetto XVI da nove anni ripete insistentemente il Papa è uno solo, ma non spiega mai quale dei due. Perché? Perché il Papa è lui stesso e siccome si trova in sede impedita, cioè formalmente prigioniero, non può dirlo in modo esplicito, il Papa sono io. Tanto che in questi giorni ho proprio polemizzato con il collega del Corriere della Sera, Massimo Franco, che continua a promanare una fake news, cioè che Benedetto XVI da nove anni stia dicendo il Papa è uno solo ed è Francesco. Ma questo non lo ha mai detto. Ha detto solo il Papa è uno solo, ma il fatto che si riferisca a Francesco è una proiezione personale di Massimo Franco che lui va spacciando in giro come se Benedetto XVI l'avesse detta realmente. Tanto che nel 2019, dopo la sua intervista a Benedetto XVI, Vatican News titolò, Benedetto XVI ha detto il Papa è uno ed è Francesco. Ma questo ed è Francesco, Vatican News citava le parole di Massimo Franco. Cioè è un film personale di Massimo Franco che lui stesso ammette nel suo ultimo libro, in cui confessa dicendo, e poi sentire Benedetto XVI che dice il Papa è uno solo, è inevitabile pensare che sia Francesco. Ma sarà inevitabile per te, non per noi. Diciamo che nella percezione normalmente è chiaro che viene da pensare. Quindi diciamo che in questo senso secondo te Massimo Franco lo fa intenzionalmente o perché proprio ignora la cosa? Perché dice, riporta la prima parte che è vera, ma omette la seconda che è la più importante del concetto, no? No, non solo la omette, ma la aggiunge lui stesso e la dà per buona, come se Benedetto XVI l'avesse detta, che è una cosa di una scordità. Ma quindi è un'interpretazione secondo te sua, libera, così, o è diciamo voluta? Allora, lo posso affermare con le sue stesse parole? No, parliamone perché Massimo Franco ovviamente è una figura molto conosciuta e con una certa autorevolezza, quindi... Massimo Franco ha ammesso che è un suo pensiero nel suo ultimo libro, ha ammesso lui stessimo che per lui era inevitabile pensare che si riferisse a Francesco e questa fola è circolata come se fosse stato qualcosa che ha detto realmente Benedetto XVI, ma è una palla. Cioè è un pensiero personalissimo di Massimo Franco, d'accordo, ma il fatto che Benedetto XVI non abbia mai detto ed è Francesco è dimostrato inequivocabilmente dal suo segretario, l'arcivescovo Monsignor Genswein, il quale nel 2021, rispondendo al sacerdote scomunicato Don Enrico Bernasconi, scomunicato perché è rimasto fedele a Benedetto XVI, appunto, proprio perché Ratzinger è rimasto il solo Papa, Monsignor Genswein risponde e gli dice Caro Don Bernasconi, guarda, il Papa è uno ed è chiaro che è Francesco. Com'è chiaro? Allora, se è chiaro vuol dire che Benedetto XVI non l'ha mai detto. Quindi Monsignor Genswein, astutamente, intelligentemente, e lui lo dice perché è fedele a Benedetto XVI, ci ha fatto capire che Papa Ratzinger non ha mai detto che il Papa è Francesco, perché altrimenti Genswein avrebbe dovuto dire, caro Don Bernasconi, mettiti l'anima in pace perché Benedetto XVI il giorno 22 maggio 2016 ha detto che il Papa è Francesco e questo non è mai successo. Chiarissimo, chiarissimo. Senti, Andrea, al di là della questione canonica, tu parli, lo dice il titolo stesso appunto del libro, di un codice di comunicazione di Papa Benedetto. Ma perché un codice? Lui parla per codici allora, quindi? Sì, adesso illustrerò come e perché. Tengo a specificare che il fatto che la declarazione non sia una rinuncia al papato canonicamente valida è una cosa vecchia quanto il cucco, diciamo, a Roma. Nel senso che già a caldo nel 2013, un paio di giorni dopo la declarazione, il professore Enrico Maria Radaelli disse, scrisse un articolo pubblico implorando Papa Ratzinger di ritirare quella declarazione perché in questo modo avrebbe creato un antipapa. E, naturalmente, Papa Ratzinger. Quindi aveva già capito tutto in pratica questa... Radaelli aveva già capito tutto. Radaelli che capisce di diritto canonico e dice, ma scusa, il canone 332 per l'applicazione impone la rinuncia al munus in modo simultaneo e ratificato. Benedetto XVI ha fatto l'esatto opposto perché ha rinunciato, di fatto, senza ratificare nulla, al ministerium per giunta in modo differito. Per giunta in modo differito. Poi vi dirò come è architettata quella declaratio che solamente i cardinali infedeli della mafia di San Gallo e non solo hanno voluto a tutti i costi interpretare come un'abdicazione, ma non lo è affatto. Tanto che quando Papa Benedetto fece spiegare a caldo dal cardinale Sodano che cosa aveva dichiarato, perché i cardinali molti sono arrugginiti in latino, quindi lui ha fatto spiegare in italiano che cosa aveva appena dichiarato. E il cardinale Sodano si guarda bene dal dire che Benedetto aveva abdicato, aveva rinunciato al papato. Lui parla solamente di fine del servizio pontificale, cioè del servizio attivo pontificale, che in tedesco infatti si traduce con il termine Dienst che corrisponde appunto a ministerium, e anzi Sodano continuava a ribadire il suo pontificato continuerà a rimanere come una stella, lei rimarrà fra di noi a brillare come una stella, eccetera. Allora se c'è qualcosa che rimane fisso sono proprio le stelle, quindi Papa Ratzinger rinunciando ad esercitare il potere pratico è rimasto comunque Papa, un Papa eremita. Questo per fare piazza pulita del fatto che la rinuncia, la declarazione non è una rinuncia valida, tant'è che in marzo 2021 è uscito un libro di 300 pagine dell'Avvocatessa Colombiano e Stefania Costa, che dimostra in modo mai smentito da nessuno che quella non è una rinuncia valida. Io poi dopo qualche mese ho capito che invece era una coerentissima dichiarazione di sede impedita, ma questo è una... Certo, benissimo. Veniamo al codice Ratzinger. Ecco, vediamo perché parla in codice. Allora, siccome Papa Benedetto è in sede impedita ed è formalmente e giuridicamente un prigioniero confinato, non può parlare chiaramente e quindi ci fa capire la sua situazione attraverso un sistema di comunicazione sottilmente logico, ma inequivocabile. Vi faccio un esempio. Lui per esempio dice, io ho rinunciato validamente al mio ministero, ma siccome sia il munus che il ministerium in italiano si traducono con la stessa parola ministero, quando lui dice ho validamente rinunciato al mio ministero, i vari Massimo Franco, Tornielli eccetera pensano che lui si riferisca al munus petrino, cioè al titolo e che quindi abbia abdicato, ma in realtà nella declarazione c'è scritto tutt'altro, quindi lui non ha rinunciato al ministero munus, ma ha rinunciato al ministero ministerium. Ecco perché Papa Benedetto riesce sempre e comunque a dire la verità, in modo in questo caso anfibologico, cioè in un modo in cui l'espressione può voler dire due cose diverse e quindi lui riesce a dire la verità e a fare in modo che i Bergogliani si bevano la versione politicamente corretta, ma lui dice la verità essenziale, trasparente, effettiva, lasciando che chi vuole capire capisca e chi non vuole capire non capisca. Spiego. Ora, questo stile comunicativo è tratto da quello di Gesù Cristo, quando si trova a confrontarsi con i suoi nemici. Tutti conoscete la frase di Gesù, chi ha orecchie in tenda, no? Tutti sapete che parla per parabole, ma in pochi sanno che lui parlava anche con un linguaggio apparentemente oscuro, tanto che gli apostoli dicono, ma questo linguaggio del maestro è duro, è difficile da capire. Perché? Perché Gesù Cristo voleva che solo chi avesse orecchie per intendere capisse. Chi fosse veramente interessato, chi aveva buona volontà, si metteva lì a ragionare con un po' di intuito, un po' di logica, arrivava alla soluzione. Vi faccio adesso un esempio di codice Ratzinger più raffinato, più colto, dove c'è però una spiegazione assolutamente univoca. Mentre in quello del ministero munus e ministerium abbiamo visto che è un codice Ratzinger anfibologico, cioè con due significati diversi, questo che vi sto per citare è assolutamente univoco. Nel libro Ultime conversazioni di Peter Sevald, il giornalista tedesco chiede al Papa, ma allora lei come si è sentito quando si è dimesso, eccetera, eccetera? E Benedetto risponde, non è così semplice. Nel primo millennio nessun Papa si è dimesso negli ultimi mille anni e anche nel primo millennio è stata un'eccezione. Quando ho letto questa frase mi è preso un colpo, perché memore dei miei studi liceali, non dico universitari, ma liceali, mi ricordavo benissimo che nel secondo millennio, nel 1294, Celestino V, Pietro Damorrone, no, è l'abdicatario per eccellenza. Vado a vedere e scopro che nel primo millennio hanno abdicato sei papi, nel secondo millennio hanno abdicato quattro papi, quindi come fa Benedetto XVI a dire nessun Papa si è dimesso negli ultimi mille anni e nel primo millennio è stata un'eccezione? Allora ho capito che ci doveva essere una chiave interpretativa. Parlo con uno storico della Chiesa, il professor Francesco Mores dell'Università di Milano, e lui mi spiega che effettivamente nel primo millennio, prima della riforma gregoriana, ci furono un paio di papi che, scacciati dal loro antipapa antagonista, persero per alcuni mesi il loro ministerium, cioè la possibilità di esercitare praticamente il potere, ma rimasero papi a tutti gli effetti, tanto che poi vennero reinsediati sul trono Petrino tali e quali dagli imperatori loro coeli. Quindi che cosa ci sta dicendo con quella frase intelligentissima Papa Benedetto? Non è così semplice, cioè non è che ho abdicato, io mi sono dimesso come si sono dimessi quei due papi del primo millennio che sono stati scacciati da antipapi e che hanno perso il loro ministerium e io infatti ho rinunciato al mio ministerium, ma sono rimasto papa, sono tuttora papa e sono papa in sede imperico. Capito? Allora su una frase del genere, carta canta, non c'è possibilità di discussione, mi spiego? Non ci sono incertezze. Quindi il Papa è Benedetto XVI, lui stesso ce lo spiega con una miriade di questi messaggi che io ho illustrato in questa enciclopedia di evidenze che è il libro Codice Ratzinger, 340 pagine, e sono dei capolavori assoluti di intelligenza, di logica, di raffinatezza, addirittura di umorismo, addirittura di umorismo. Vi basti pensare… Puoi citare un altro? Come no, ve ne cito uno dei più diversi. Uno di quelli più, diciamo, di più facile anche comprensione, ecco, se vogliamo, perché poi ovviamente tutto il resto per chi vuole approfondire lo trovo ovviamente nel tuo libro Codice Ratzinger appunto. Ecco, citare pochi in velocità, magari in velocità, così proseguiamo con gli altri punti che ci tengo molto ad affrontare. Certo, quando nel 2016 il giornalista Tornielli gli chiede perché aveva mantenuto la veste bianca, lui risponde, ho mantenuto il nome pontificale e la veste bianca perché non avevo altri abiti nell'armadio. Allora, questa è una risposta ridicola, perché mi pare che Benedetto XVI in nove anni non ha trovato uno straccio di talare nera da cardinale o da vescovo per differenziarsi da Papa. Lui dice, ma è stata la cosa più pratica perché perché non esiste una veste da Papa impedito. Però lui aggiunge subito dopo e dice, però porto la veste bianca diversa da quella del Papa. Non si riferisce a Francesco, si riferisce alla veste classica da Papa. Infatti lui che cosa ha fatto? Ha tolto la mantelletta e la fascia alla vita per significare quello che lui ha rinunciato, cioè due pezzi del ministerium, ovvero governare la barca di Pietro e annunciare il bandimento. Quindi come si fa a prendere sul serio una risposta del genere? Mantengo la veste bianca perché non avevo altri abiti nell'armadio? Sì, diciamo, è ironica, anche dietro l'ironia c'è un grande spessore ovviamente di pensiero. Chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo. Senti Andrea, molti potrebbero pensare che la questione Papa è merito, Papa impedito, non dico proprio una questione di semplice dana caprina, ma comunque una questione che riguarda solo i credenti. Ma tu invece tieni proprio a sottolineare che spesso, anzi sottolineo proprio spesso, che la questione riguarda tutti proprio anche i laici, quindi praticamente tutti. In che modo riguarda tutti? Ci coinvolge tutti, diciamo, mettiamola così. Brevemente, brevemente, per i cattolici, se Francesco è stato eletto da un conclave nullo, convocato a Papa non morto e non abdicatario, quindi non ha l'assistenza dello Spirito Santo, non è infallibile e infatti questo giustifica quello che lui dice di originale sulla fede cattolica. Ma per quanto riguarda i laici è un problema enorme, perché voi avete un capo di Stato che ha diretta influenza su 1 miliardo 285 milioni di persone, che è una figura di riferimento morale a livello planetario, che però non ha diritto di stare lì dov'è. E anzi, questa faccenda dimostra che il Papa Benedetto è stato costretto a dimettersi, perché c'erano dei poteri forti esterni e interni alla Chiesa che lo volevano togliere di mezzo e che hanno messo al suo posto un re travicello per realizzare un'agenda ben precisa. Quindi è estremamente preoccupante. Se Giovanni Paolo II ha dato la spallata finale al comunismo, Bergoglio per sua stessa ammissione dice, la stampa 15 marzo 2021, non bisogna sprecare la pandemia, ma utilizzarla per costruire un nuovo ordine mondiale. Voi sapete che cos'è il nuovo ordine mondiale, quindi mi sembra che non ci sia altro da aggiungere, no? Certo, chiarissimo. Senti, Papa Bergoglio che, come abbiamo visto, interviene spesso e volentieri in faccende di politica internazionale, come nella crisi qui in corso russo-ucraina. Alcune sue esternazioni, tipo quella anche la più recente che ha detto, proprio andando in antitesi alla narrativa occidentale, la narrativa imperante, che la Nato ha provocato la Russia in questi anni qua, no? Ha praticamente provocato una reazione della Russia. Affermazioni queste qui che hanno provocato a loro volta una reazione della stampa, anche qui in Italia, mai vista, perché ci sono state testate che hanno definito le parole del Papa scandalose. Non ho mai sentito organi di informazione che dicono che il Papa ha fatto delle affermazioni scandalose. Veramente è al di là dell'innovazione. Io do per inciso questa la dimostrazione di quanto il sistema mediatico, stampe tv, siano servili, diciamo, a oltreatlantico perché si arrivano a definire appunto scandalose l'affermazione di un pontefice. È proprio la palissiana la forma di asservimento. Prego. Guarda, siccome Bergoglio non è il Papa, non ha un depositum fidei da difendere, quindi lui fa il surf su quelle che sono le variazioni dell'opinione pubblica, tant'è che quando fece quella pseudo consacrazione della Russia, quando si lamentarono perché era solo la Russia, allora ci aggiunse pure l'Ucraina, poi però si lamentarono, allora aggiunse tutto il mondo, poi si lamentarono ancora e aggiunse anche la Chiesa. Quindi lui è uno che fa il surf sull'opinione pubblica, tant'è che prima ha preso le difese dell'Ucraina in toto, benedicendo la bandiera nazista del battaglione Azov con la croce lì, la croce di ferro del battaglione Azov. Poi ha visto che sull'onda dei vari Orsini e altri intellettuali si stava un po' riequilibrando la versione e anche lui si è adattato e ha detto eh vabbè però pure la Nato ha provocato eccetera. Quindi Bergoglio non ha una direttrice unica, lui è liquido, è camaleontico, è proteiforme, si adatta a quello che che passa il convento e l'aria che tira. Questa volta ha pestato qualche piede alla solita stampa mainstream. Certo, quindi da questo punto di vista dici non vanno ricercate motivazioni particolarmente profonde, equilibri sottili, cioè è semplicemente una persona che dice si barcamena insomma, ecco, molto più, vogliamo dire banalmente, ecco. Lui cavalca il consenso sempre e comunque, se domani viene la moda del gelato di limone, lui parlerà bene del gelato di limone. L'altra volta si è messo un grembiule da pizzaiolo in un'occasione in cui dei bambini autistici portavano la pizza ai barboni, una specie di cocktail di amicisiano, i buoni sentimenti d'accatto e in quell'occasione si è messo il grembiule da pizzaiolo sulla veste da papa, cioè vi rendete conto? E tutti che sono andati in brodo di giungiole. Ti faccio un altro esempio di come lui insegue il consenso. Quella foto che si è fatto fare al negozio di dischi, ha detto più di una volta che lì si trovava un giornalista per casa che gli scattò una foto all'uscita da un negozio di amici suoi al Pantio. Ah, che bello, il papa è uno di noi, scende in piazza come un cittadino comune, tutto il mondo sbrodolarsi con questa melassa. Poi ho scoperto che il fotografo che si chiama Javier Martinez Brocal, che ha scattato quella foto, era il fotografo di Bergoglio. Allora come fa casualmente il fotografo di Bergoglio a incontrare Francesco in un negozio? È ridicolo, no? È ridicolo. Quindi li prendono per i fondelli, li prende per i fondelli, Bergoglio dice bugie, come quando ha detto che era in diretta da Fazio e poi è stato sgamato da Gospia, che ha visto il suo orologio che segnava le 5 e mezza mentre la diretta era le 8. Quindi vi racconta un sacco di balle. Purtroppo è oggettivo, mi dispiace, so di dire cose spiacevoli per alcuni, ma io non mi piace. Senti, è un periodo in cui sono morti diversi cardinali legati a Bergoglio, è morto anche proprio recentissimamente, la settimana scorsa, anche il suo amico Eugenio Scalpari. Ecco, cosa pensi degli amici di Bergoglio? Gli amici di Bergoglio sono, vabbè, a parte i cardinali della mafia di Sangallo, che da autobiografia del cardinale Dunnels, che era uno dei membri di questa lobby di porporati progressisti che venivano nella città di Sangallo, in Vittera, Dunnels scrive nella autobiografia candidamente che da anni questa lobby di cardinali modernisti stava cercando di cacciare Benedetto XVI per mettere al suo posto chi? Il cardinale Corghe e Mario Bergoglio. Carta canta, eh, carta canta, va bene. Ma gli amici di Bergoglio nel mondo laico sono i vari Scalfari, Pannella, Bonino, grandi amici. La Bonino ha sulla coscienza sei milioni di aborti perché è stata la promanatrice del referendum sull'aborto in Italia. Pannella non ne parliamo. Scalfari è l'uomo senza Dio, come lui stesso si è definito, una specie di superlaicone anticattolico. Cioè, voglio dire, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, no? Allora, come fa Emma Bonino a essere definita da Bergoglio la più grande italiana dei nostri tempi? Una che faceva gli aborti con la pompa da biciclette in prima persona e che ha sulla coscienza sei milioni di aborti. Ora, a me non interessa che voi siate pro o contro l'aborto, però l'aborto per la dottrina cattolica è omicidio, capito? Vi faccio un esempio di questa tecnica, diciamo, ma anchista di Bergoglio sull'aborto. Referendum a San Marino sull'aborto ha vinto con una maggioranza schiacciante il sì per l'aborto al nono mese, nonostante la maggioranza dei sanmarinesi si dicano cattolici e Bergoglio prima non ha fatto niente. Poteva, siccome il peso mediatico certo non gli manca, poteva ricordare i sanmarinesi cattolici, guardate che l'aborto per noi cattolici è omicidio, quindi vedete un po' che dovete fare. No, lui non ha detto niente, ha lasciato fare e poi ha detto, ah sì, è una cosa bruttissima l'aborto, come se fosse una questione estetica. Ha dato la comunione al superabortista Biden, alla superabortista Nancy Pelosi e nonostante tutte queste cose, io vedo nel mondo cattolico tradizionalista gente che ancora non capisce, ancora si ostina a riconoscere Bergoglio come legittimo Papa, nonostante i quintali di evidenze che io da due anni sto portando avanti. Certo. Senti Andrea, in un mese e mezzo il tuo libro ha venduto 4300 copie, quindi complimenti. Devo rettificare, sono 4700. 4700, in pochi giorni appunto, quindi veramente complimenti, tra l'altro è inserito tra i best seller nazionali. Tu ricevi quindi parecchi attacchi, ovviamente perché il tema è estremamente delicato e muove equilibri veramente molto importanti, tra l'altro sei però stranamente attaccato più da parte cattolico-conservatrice che non da parte bergogliana, che se vogliamo è tutto sommato è strano per non dire quasi un paradosso, come mai? Sei riuscito a capire il perché? Come no? Mi sono applicato a fondo su questa questione, tant'è che San Paolo nella seconda lettera ai tessalonicesi parla proprio di una potenza d'inganno che Dio manda perché della gente non creda alla verità. Quindi a parte i bergogliani che neanche ci si mettono fanno finta che io non esista nella pia illusione di imbozzolarmi nel dimenticatoio, ma i cattotradizionalisti i cosiddetti unacum, cioè quelli che fanno la messa unacum Papa Francesco, o mi ignorano, o mi, nonostante io abbia pubblicato delle cordialissime lettere per chiedere un confronto ad Aldo Maria Valli, al professor Piglione, al direttore della Bussola Quotidiana Cascioli, ho detto scusate signore ci possiamo ritagliare mezz'ora per parlare di questa cosa perché niente io avessi ragione, qui siamo di fronte alla crisi più grave della Chiesa dai tempi della crocifissione di Gesù. Quindi ci possiamo prendere un tema e la dedicate mezz'ora? No, mi hanno ignorato completamente. Poi ci sono quelli che mi insultano direttamente, tipo il professor Zenone, ah sono tutte cretinate che fanno ridere i poli e non ha neanche, non dico letto il libro, ma non ha neanche letto un articolo dell'inchiesta, neanche letto un articolo dell'inchiesta, che è stata messa gratis a disposizione del pubblico su Bio Blu in 60 capitoli. Quindi la blogger americana Ann Barnard che mi dà del profittatore, la quale poi si è scoperto adesso che ha fatto degli uffici fiscali che non finiscono più perché in ottica di fede Dio si fa beffe dei suoi nemici, quella mi dava del profittatore, ma io ho fatto 200 articoli investendo 800 ore di lavoro gratis, quindi praticamente sto sotto di 10.000 euro come investimento, ho messo gratis a disposizione del pubblico l'inchiesta su Bio Blu, adesso che volete pure che vi regali il libro? Io non ve lo posso regalare il libro, mi dispiace, ho sottoscritto la percentuale di guadagno più bassa in termini di legge per tenere basso il prezzo di copertina, quindi vista la mia buona fede i casi sono due, o Cionci ha ragione e allora dovreste darvi una mossa perché il vero Papa, il vicario di Cristo è in sede impedita, o se Cionci ha torto sta creando un grosso scandalo perché sta delegittimando il Santo Padre Francesco che illumina tutti col suo magistero illuminato. Capito? Quindi in ognuno dei due casi, sia che io abbia torto, sia che abbia ragione, questa ignavia da parte di catto tradizionalista, è inaccettabile. Quindi comunque sei disponibile al confronto anche con studiosi della materia, con vaticanisti anche veri e propri. Certo. Senti, hai annunciato da poco quella che viene definita la cosiddetta operazione Vescovi. Facci capire, spiega di cosa si tratta. Sì, è un fenomeno straordinario che veramente mi lascia commosso perché i miei lettori, e lo potete vedere sulle foto che ho twittato sul mio account Chiocciolina Cionci Andrea, si comprano anche dieci copie del libro, naturalmente non per leggerle tutte e dieci, ma per regalarle a preti, monsignori, vescovi. Allora ho deciso di coordinare questa iniziativa nata dal basso, per cui tutte le persone che vogliono, tra virgolette, adottare un vescovo, gli mandano una copia del libro e poi mi mandano il nominativo del vescovo che è stato informato, in modo che si possa procedere a un'informazione capillare dell'alto clero e in modo che poi nessuno possa dire, ah ma no, io non sapevo, io ero in missione in Bozambico, io ero distratto ad accogliere gli immigrati, non sapevo che il Papa fosse insedente lì. Adesso siete stati informati e renderete conto alla storia, renderete conto a Gesù Cristo, per chi ci crede naturalmente, per chi è cattolico, perché tendo a ricordare sempre che l'approccio della mia inchiesta è laico, non perché io sia per forza o laico o cattolico, cosa che non voglio esplicitare, ma perché le cose oggettive sono quelle, sono quelle, no? Allora se Bergoglio dice che è a favore delle unioni civili, in ottica cattolica lui sta sdoganando il secondo dei quattro peccati che gridano vendetta al cielo, e non l'ho fatta io la dottrina cattolica. Quindi cari Cascioli, biglione, valli. Com'è possibile che il Papa, assistito dallo Spirito Santo, sia a favore esdogani la sodomia, la pratica omosessuale, che è il secondo dei quattro peccati che gridano vendetta al cielo? È un'incoerenza interna. Certo. Senti, un'altra domanda che volevo, vista la tua presenza, approfittare per da Porti, Bergoglio viene proprio considerato il Papa perfetto per questi tempi, quindi per diciamo, è un Papa funzionale, in alcuni ambiti viene ritenuto un Papa funzionale al grande Reset, no? Certo. Ecco, in questo senso qui c'è invece un'altra figura che è Monsignor Viganò, che viene preso invece ad esempio e viene considerata quasi la vera guida da alcuni, la vera guida spirituale della Chiesa. Ecco, cosa ne pensi di questa vicenda? Allora, del ruolo che ha in questo momento, con le sue esternazioni molto articolate, Monsignor Viganò? Allora, Bergoglio è chiaramente l'uomo giusto, al momento giusto per realizzare il nuovo ordine mondiale, il Great Reset, il capitalismo inclusivo e la distruzione, l'annichilimento della nostra nazione, come di tutte le altre nazioni occidentali, per realizzare questa rivoluzione antropologica, il transumanesimo e tutte queste bestialità anticristiche che fanno veramente orrore, orrore. Monsignor Viganò ha individuato con grande precisione e anche grandissimo coraggio i progetti, gli obiettivi di Bergoglio e non lo si può contraddire in nulla da questo punto di vista. Il problema è che lui si ostina a riconoscerlo Papa comunque, o comunque non dice che il Papa è solo Benedetto e in questo modo, e mi dispiace, ma lo Spirito Santo non ne esce tanto bene. Come fa un vero Papa a essere malvagio, il capo della Deep Church, l'avvelenatore di milioni di persone e tutte queste cose che dice Monsignor Viganò? Monsignor Viganò dovrebbe fare una scelta chiara, precisa di campo, come l'hanno già fatta tre vescovi, Monsignor Grasita, Lenga e Monsignor Negri, da poco defunto, che hanno detto che Benedetto non ha mai abdicato, che la rinuncia è invalida, che è stato costretto a togliersi di mezzo e queste cose così. Anche perché Monsignor Viganò poi coagula tutta quella fetta del mondo tradizionale cattolico, i cosiddetti sede vacantisti, che addirittura se la prendono con Benedetto XVI. Cioè il Papa Ratzinger non solo è in sede impedita, si è sacrificato per salvare la Chiesa, per antipapare i suoi nemici, per scismare la Chiesa da tutte le scorie moderniste, eccetera. No, ma come dice lui al cardinale Brandmuller, il dolore per la fine del mio pontificato in voi si è trasformato in rabbia per la mia persona e per il mio pontificato. E questo è il meccanismo psicologico della potenza d'inganno. Cioè Bergoglio fa talmente arrabbiare questi tradizionalisti che loro non capiscono più niente e dicono ah vedi è tutta colpa di quel Ratzinger che ci ha infilato con questo macello. Una spiegazione secondo me del fatto che Monsignor Viganò non entra nel merito della questione della Papa Emerito, il Papa Impedito, secondo me potrebbe essere letta sul fatto che Monsignor Viganò parla di quello che sta avvenendo proprio nella pratica, sta parlando di cose molto pratiche. E quindi il suo riferimento chiaramente è a Bergoglio perché in quanto insediato comunque in Vaticano è colui che dal punto di vista proprio pratico, concreto, quotidiano è il riferimento in ogni caso. Esercita più influenza lui sicuramente ed è più riferimento lui dei vari centri di potere che noi inevitabilmente Ratzinger, ma questa ovviamente, quindi potrebbe essere quella lì insomma. Sì però scusami, se viene fuori, tu ti lamenti di un poliziotto che ti esercita un sacco di violenze e di angherie, no? Un giorno arriva uno a dirti guarda che quello non è un poliziotto, è un matto sciolto che ha indossato un uniforme abusivamente. Ma ti vuoi interessare della questione? No, invece continua a dire, eh sì però quel poliziotto continua a esercitare violenza eccetera. Scusa, se quello non ha le carte in regola, tu ti dovresti fiondare sul codice Ratzinger. Ah sì, davvero non è il Papa? Fammi un po' vedere. Poi magari ci non ci ha torto, eh? Però voglio dire, il cento per cento dell'attenzione dell'interesse dovrebbe essere concentrato sull'unica cosa che conta, cioè se Bergoglio ha o no il diritto di essere Papa. Anche perché se voi lo attaccate, riconoscendolo come Papa, gli fate un favore, perché lui può dire, vedete, anche quei vigottoni… Sì sì, è un'ulteriore legittimazione. Anche i miei amici più aceri mi riconoscono come Papa e non è in discussione la questione. Chiarissimo, chiarissimo il concetto, il tuo punto di vista su questa, sulla questione proprio di Monsignor Viganò. Ci stiamo avvicinando alla conclusione di questa intervista. Se pensi che il nostro lavoro sia importante e utile per la tua informazione e meritiamo il tuo sostegno, ti ricordo che il nostro canale è completamente demonetizzato da YouTube da un anno e mezzo. Ora abbiamo una seconda possibilità però per sostenerci, oltre al bonifico bancario libero e ringrazio ancora tutti i donatori che ci supportano, hai la possibilità di unirti a Patreon, la community che abbiamo da poco creato, che ti permette di avere uno scambio più vicino con noi e fruire di notizie e materiale extra. Il tuo sostegno è fondamentale per l'esistenza e l'evoluzione del vaso di Pandora. Trovi qui sotto i link per fare la tua scelta su come sostenerci. Siamo in chiusura. Io ringrazio molto Andrea Cionci, autore dei Codice Ratzinger, edito da Bio Blue Edizione. Vediamo se verrà raccolto magari i tuoi inviti a un confronto su questa posizione che effettivamente viene sottovalutata su questa questione, ma è effettivamente fondante fondante di tutto il sistema e ovviamente del mondo che c'è in Vaticano. Posso dire un'ultima cosa Carlo? Prego, sinteticamente sì, prego. Allora, il significato di Papa Emerito, canonicamente non esiste il Papa Emerito, mentre viceversa esiste il Vescovo Emerito, scritto con la E maiuscola, fin dagli anni 70, che è il Vescovo in pensione. Ma teologicamente e canonicamente il Papa Emerito è un assurdo. Allora, che cosa vuol dire che Papa Benedetto è Emerito con la E minuscola? Emerito è un titolo descrittivo che riguarda la seconda accezione della parola Emerito, che non vuol dire in pensione, fuori dai giochi, ma vuol dire l'insigne, il degno, colui che merita di essere Papa. E questo aggettivo è quello che ci consente di capire chi è il vero Papa in questa sorta di ministero allargato dove c'è un membro attivo illegittimo, che è Bergoglio, e un membro contemplativo legittimo che è l'Emerito, che è Benedetto XVI in sede impedita. Certo. È molto importante anche questa ultima precisazione perché in tematica come questa e come anche ad esempio nell'atto di nascita sono importanti anche cose che sembrano secondarie o in certi casi vengono interpretate banalmente diciamo come magari addirittura errori, quale può essere l'esempio appunto di una lettera iniziale che è maiuscola o minuscola. Quando si parla di grandi istituzioni anche questo, ricordiamoci tutti, fa una differenza fondamentale. Grazie, grazie ancora ad Andrea Naccio. Grazie a voi. Grazie e grazie a voi tutti ascoltatori e amici del vaso di Pandora.